Polemiche interne alla maggioranza di governo a Nocera Inferiore. La nomina di un revisore contabile all'interno della Multiservizi scatena l'ala riformista e socialista della maggioranza che sostiene Maglio Torquato. Il nome di Anna Maria Nitto, legata per due elezioni consecutiva ai candidati sindaco del centro-destra, manda su tutte le furie Antonio Cesarano, coordinatore della lista riformisti per Nocera, da tempo fianco a fianco con il primo cittadino. Cesarano chiede ai suoi compagni socialisti e riformisti di prendere le distanze ufficialmente da questa nomina che inquadra il vero volto della giunta Torquato e ne definisce la matrice politica. Per l'ex vice sindaco e assessore al bilancio, la nomina in Multiservizi della dottoressa Nitto, vicinissima agli ambienti di centro-destra, non auspica il cambiamento nel modo di intendere e amministrare la comunità che i riformisti e diversi altri gruppi avevano visto intorquato, contribuendo a farlo eleggere a guida della città. Nella qualità di coordinatore della lista riformisti, scrive in una nota Antonio Cesarano, devo prendere atto che il progetto civico al quale avevo aderito due anni fa non esiste più e si chiede se non sia stato esclusivamente un mezzo per raggiungere un obiettivo piuttosto che un percorso di rinascita sociale. Si lesiona dunque la maggioranza Torquato, non nuova ad attacchi trasversali che già in passato avevano cercato di destabilizzarla. I rumors leggono questa nomina come inserita in un progetto molto più ampio, che dovrebbe portare all'indomani delle elezioni politiche all'adesione del sindaco ad un partito ben preciso, a cui dovrebbe seguire una nomina in giunta che farebbe scattare un importante seggio in consiglio comunale. Solo fantapolitica?